Decide il match con questa autentica staffilata da 25 metri che non lascia scampo ad Apruzzese, 1-0. Nel destro di Alessandro Masala ci sono potenza, precisione e coordinazione, un mix vincente che regala la vittoria fondamentale ai biancoccelestri nella fase cruciale del campionato e dopo la sfortunata gara contro il Sol finalmente si festeggia il ritorno alla vittoria casalinga. La Tadolce batte Palestrina 1-0.